Saluto Giancarlo Marcotti, Giancarlo buongiorno, ben trovato. Buona giornata a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Facciamo così, a ritroso, poi andiamo naturalmente a parlare di Russia, Ucraina, Zelensky e sanzioni, queste sono un po' le parole chiave. Questa settimana sarà molto importante a livello economico-finanziario per la pubblicazione di dati macroeconomici di rilievo, a partire da quelli sull'inflazione che riguardano l'eurozona nel suo complesso e i vari paesi europei, tra cui anche il nostro, e poi il PIL americano. Questo ovviamente, soprattutto parlando di inflazione, ci porterà a fare delle riflessioni sull'azione delle banche centrali. È importante perché ovviamente in questo momento le banche centrali, da una parte hanno l'inflazione, dall'altra però hanno la guerra con tutto ciò che comporta, cioè con previsioni macroeconomiche che sono assolutamente viste al ribasso. Allora, partiamo da qui per comprendere dove ci potranno portare queste riflessioni appunto e a cosa potranno portare queste riflessioni gli istituti centrali. Emanuela, come ogni fine trimestre, chiaramente la situazione è estremamente fluida, nel senso che cominciano le varie previsioni perché tra, appunto, in questa settimana finirà il primo trimestre del 2022 e il desiderio di sapere come è andato questo primo trimestre, beh, lo sappiamo a larghi tratti, però insomma poi avremo i numeri, tra un po' avremo i numeri e questo cambierà tutto. Di sicuro a larghi tratti i primi due mesi, gennaio-febbraio, avevano così alimentato delle buone, perlomeno, insomma previsioni per il futuro, perché si continuava a mantenere come obiettivo, diciamo, una crescita piuttosto sostenuta. Ovviamente dopo il 24 di febbraio le cose sono cambiate drasticamente, quindi addirittura da una crescita del 4% si è cominciato a parlare di recessione, quindi il mondo è cambiato enormemente dopo appunto il 24 di febbraio. Quindi adesso capire fino a che punto può avere inciso in particolare sul mese di marzo questa guerra è una cosa che, diciamo, ci tiene un po' tutti sulle spine, perché vedendo i consumi del gas estremamente ridotti, chiaramente ridotti anche perché le persone hanno cominciato a cercare di risparmiare visto i costi, ma ridotti anche perché purtroppo le aziende avranno lavorato di meno in questo mese di marzo, questo sarà fondamentale capire, insomma, cosa è accaduto nel mese di marzo per poi capire quello che ci aspetterà nei prossimi trimestri. Assolutamente, beh, tra le ultime parole dette rispetto alle previsioni, ci sono quelle di Visco, Banca Italia che ha parlato di un'economia che ristagna e anzi ci saranno molte più famiglie in povertà assoluta, quindi tutto si collega anche alla difficoltà di pagare le bollette eccetera eccetera di cui parliamo, sale il numero delle famiglie proprio in 100 milioni di persone, eccolo qua, il dato preciso, non volevo dare un numero sbagliato, ma quindi i banche centrali cambieranno la loro politica o proseguiranno, cioè la rimoduleranno perché cambieranno forse è una parola eccessiva, non possono farlo fondamentalmente perché poi c'è il controllo dell'inflazione, no? Allora, io vedo una dicotomia tra la Fed e la Banca Centrale Europea, o meglio, la Fed oramai ha intrapreso un percorso che non lo può cambiare, anche perché insomma negli Stati Uniti l'inflazione è un problema ancora superiore a quello europeo e quindi io ritengo che la Fed continui in questo suo percorso. Per quanto riguarda invece la BCE, attenzione Emanuela, io vedo che i nostri media nazionali stanno sottovalutando un fatto che sta accadendo in Europa, c'è sempre più una dicotomia tra Germania e Olanda in particolare e direi il resto dell'Unione Europea, comunque in particolare la dicotomia con Italia, Spagna, Portogallo, ma anche con Francia che sembra che stia più dalla parte nostra in questo momento che non dalla parte della Germania, ma quello che è successo tra Draghi e Rutte per intenderci, cioè tra il nostro Premier e il Premier olandese, non è una cosa da sottovalutare, sono due visioni completamente diverse, quindi all'interno dell'Europa, magari ne parleremo in un'altra trasmissione, ma all'interno dell'Europa stanno accadendo, questa guerra ha messo ancora di più in evidenza delle crepe tra i vari paesi che, insomma, la cui sviluppo è tutto da vedere, se Draghi va a litigare con Rutte e con Scholz non è una notizia di poco conto. No, 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 certo, diciamo che gli equilibri sicuramente qualche penalità l'avranno, infatti lo dicevo poco fa Giancarlo, insomma, i nodi verranno al pettine successivamente, qualcuno è già venuto al pettine ovviamente, però adesso sai c'è ancora la fase emergenziale, quindi comunque è anche complicato mettere in ordine i vari passaggi. Allora, Giancarlo, tornando, se l'abbiamo accennata poco fa, ma adesso apriamo il capitolo dedicato proprio al conflitto Russia e Ucraina, partiti nuovi negoziati, appunto Zelensky che dice, e lo vediamo ancora, insomma è la notizia che almeno fino a poco fa era in pole position, sì, c'è sempre questa, perché ovviamente bisognerà vedere dove porterà pronti allo status di neutralità, insomma come giudichi questa presa di posizione di Zelensky a questo punto del conflitto, dopo un mese? Allora, innanzitutto una piccola breve, anzi, riflessione sulla questione della guerra lampo non lampo, allora se i russi rispettano ciò che avevano detto, cioè che non avevano intenzione assolutamente di annettersi l'Ucraina in toto, ma eventualmente solo di fermare la guerra del Donbass e poi lasciare al Donbass la possibilità di autodeterminarsi, quindi se addirittura diventare Russia, se rimanere Ucraina, oppure se la cosa diciamo più probabile è di creare un, chiamiamolo un nuovo Stato, comunque insomma l'indipendenza dall'Ucraina, ma anche l'indipendenza dalla Russia, con ovvio un aspetto completamente diverso rispetto a quello che era adesso. Quindi se diciamo le mire della Russia non erano quelle di distruggere Kiev, ma quello di costringere Kiev a chiudere quella penosa vicenda, penosa insomma anche di più, drammatica vicenda del Donbass, allora era ovvio che la guerra non poteva essere breve, doveva essere una guerra di logoramento, poi chi dei due sarebbe logorato per primo è ovviamente da stabilire. in questo momento, io ho sentito prima Andrea se non mi sbaglio che ha parlato di questo e a me sembra che abbia detto le cose corrette, cioè che attenzione alla fine come sempre quando ci sarà un negoziato che porterà ad una situazione definitiva, entrambi rivendicheranno di avere vinto, insomma perché è ovvio, Zelensky potrà dire Kiev è rimasta Ucraina, non ci hanno soprappato, ma contemporaneamente magari Putin potrà dire che Donetsk e Lugansk finalmente libere e così via. Quindi stiamo a vedere quello che succede, però è molto probabile che la cosa abbia ancora una durata. Benissimo questa uscita adesso che hai appena sottolineato di Zelensky sulla neutralità dell'Ucraina, che era un punto fondamentale, se si va avanti ancora un po' su questa strada, penso che si possa raggiungere un compromesso, insomma, positivo. Beh, quello Zelensky ha detto Putin ha iniziato la guerra per questo, quindi insomma così a conti fatti, almeno sulla carta dovrebbero esserci buone probabilità che ci si avvii verso quantomeno una risoluzione o un primo accordo, insomma poi vedremo, peraltro Giancarlo, la Russia ha ritirato le truppe intorno a Kiev perché anche l'esercito russo insomma comincia a soffrire di questa situazione, non è che siano esenti da quello che sta succedendo. Beh, ovviamente è ovvio, insomma, se si va in guerra delle perdite... intendo dire non a caso sono state ritirate in questo momento, forse perché appunto da una parte i negoziati, dall'altra uno stop a quantomeno per vedere cosa succede. Esatto, quindi questo è un aspetto ulteriormente positivo della vicenda. se, insomma, se si fanno passi avanti ancora in questa direzione, ripeto, io non ho fiducia che possa finire tutto nel giro di una settimana, ma magari di un mese, di un mese e mezzo, così insomma si possa arrivare ad un accordo che possa andare bene per entrambe le parti. Certo, assolutamente sì. Allora, Giancarlo, come dicevamo, un mese di sanzioni contro la Russia, facciamo un po' un bilancio con te, perché per quanto riguarda le sanzioni ne abbiamo già parlato anche in altre puntate, ma sono già quattro i pacchetti di sanzioni che sono stati imposti dall'Unione Europea alla Russia e di Vladimir Putin, come, lo sappiamo, forma di pressione per convincere il Paese a porre fine all'offensiva sull'Ucraina. Peraltro Mosca era già stata sanzionata otto anni fa per l'annessione della Crimea, però rispetto a quello che sta succedendo adesso, le misure erano più limitate, quindi diciamo che erano passate un po' più inosservate, se vogliamo usare questa espressione, da parte di Putin. In questo caso è un po' diverso, perché le sanzioni che sono state studiate e che stanno continuando ad andare avanti, perché poi l'Occidente sta dicendo se Putin non si ferma, noi continueremo, rischiano di portare veramente la Russia a un passo dal default. Insomma, per certi versi la situazione è veramente già allo stremo, non solo a livello militare, ma anche proprio economico. Allora, ripartiamo da qui, facciamo un po' un bilancio. Che cosa hanno portato queste sanzioni finora? Sia alla Russia, ma anche e forse soprattutto in questo caso all'Europa, all'Occidente, all'Italia, insomma, cerchiamo di fare il punto complessivo. Guarda Manuela, dato che ovviamente prevedevo che l'argomento anche di questa settimana, ci mancherebbe altro, è ovvio fosse la Russia, mi sono documentato, nel senso che anziché utilizzare parole mie su questo, che chiaramente oltre ad essere, diciamo, non è che abbia a disposizione dati o cose, quindi sarebbero del tutto personali, mi sono documentato nel senso che ho cercato di avere un parere da persone che invece erano e sono tuttora molto legate al commercio con la Russia. Allora, permettimi perché me lo sono appuntato, quindi per non sbagliare, leggo le parole precise, sai come sono fatto un po' un precisino, io c'ho questo difetto qua, comunque insomma. Eh va beh, insomma. Eh, perché non voglio mettere in bocca ad altre persone parole che non hanno detto. Sì, no, certo, 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 mi sembra giusto, assolutamente. Sono molto prudente. Allora, ti riporto le parole di Paolo Bellini, che è stato tra i fondatori dell'Italia Russian Association, che è un'associazione appunto nata con lo scopo di vendere unità immobiliari ai russi. Allora, gli chiedono a Paolo Bellini, le sanzioni fanno più male ai russi o a noi? Senti la risposta. Ma secondo lei, punto di domanda, la Russia è autonoma dal punto di vista delle energie e delle materie prime. Con quello che hanno, possono andare avanti cent'anni. Noi no. Saremo noi ad avere la peggio se le cose non si risolveranno. Poi il secondo domanda... Però ti posso fare un appunto, così dopo mi rispondi anche su questo. Sì, sì. D'accordo, ma la Russia è, diciamo, economicamente si basa proprio sulle materie prime. Se i rapporti commerciali con gli altri paesi si interrompono o comunque subiscono una forte riduzione, insomma, credo che sì, non so quanto potrà sopravvivere. Ecco, solo di quello. Però mi rispondi dopo, eh? Prima vai avanti a leggere gli altri paesi. Diciamo che io mi inserisco come avvocato del Gliadro. Certo, no, 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 ma fai benissimo. Poi. Allora, la seconda domanda è quali settori ne risentiranno di più? La risposta di Bellini è l'immobiliare e il turismo. Vedrete cosa sarà la Sardegna senza russi. Eppure le Olimpiadi di Milano-Cortina sarebbero state un'occasione straordinaria a rimetterci. È tutto il comparto dell'Axaric, del lusso, insomma. Chiedono quali sono adesso i rapporti commerciali con i russi. La risposta è interrotti. Con un paio di oligarchi stavamo trattando alcune importanti operazioni immobiliari in Italia. Con altri clienti si ragionava, estate dopo estate, di affittare ville in Sardegna, a Capri, sull'Argentario. Ad oggi non sappiamo se quest'anno verranno o meno. Ecco, l'ho fatta breve, eh? Sì, no, 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 questi sono i punti poi più importanti, secondo me. Certo. Ok. Quindi questo è ciò che dice una persona che ha stretti rapporti con i russi, stretti rapporti commerciali. Chiaramente, per rispondere alla tua domanda, assolutamente importante e sensata, domanda intelligente, è chiaro che lui risponde dal suo punto di vista. Cioè, voglio dire, se i russi hanno una perdita, mi dispiace, ma soprattutto mi dispiace, se ho una perdita io. Cioè, lui la vede, ovviamente, da imprenditore italiano che vende qualcosa ai russi. Se i russi non gliela comprano più la cosa che lui vende... No, 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 ma quello sì, però siccome lui era, mi sembra di aver capito così, ci rimettono più loro o noi? Ok, si può dire, ci rimettiamo entrambi. È ovvio che poi la parte più, che lede di più me è la mia, e questo è chiaro. Cioè, poi degli altri può anche non fregarmene nulla, no? Io ne facevo proprio, come dire, guardavo dall'alto e dicevo, beh, poi è chiaro che in questo momento non sappiamo ancora esattamente chi e quanto rimetterà uno all'altra parte, però guardando là all'alto credo che anche la Russia ne uscirà con le ossa belle belle rotte, insomma. Sì, ecco, secondo me un errore che l'Europa non dovrebbe fare, cioè di tirar troppo la corda, è di spingere la Russia verso altri mercati, in particolare verso la Cina e l'India. Ah, beh, quello sicuramente, quello sicuramente, se no l'aiuta a portare avanti dei rapporti commerciali che per noi si interrompono e quindi poi lì sì che saremmo noi veri penalizzati. E questo è appunto una questione. Ed effettivamente un po' Macron l'ha già capito, nonostante che la Francia sia nettamente il paese che ha il numero superiore di centrali nucleari e quindi teoricamente dipende meno dall'importazione di gas russo, ma lo ha capito anche Scholz che così fa capire di non tirare troppo la corda perché a lui che poi oltretutto è cancelliere da pochi mesi, vedere l'economia tedesca andare a picco, chiaramente verrebbe penalizzato enormemente anche come politico. Sono stati 16 anni di Merkel e quindi di CDU in cui la Germania non ha avuto un po' altro che crescita e diciamo anche sostenuta, arriva a questo socialdemocratico immediatamente l'economia va a picco, capisci che… Certo, certo. Quindi ci sono queste cose. Noi dobbiamo naturalmente, chiamiamole le sanzioni, era quasi inevitabile che si faccia, cioè se sono fatte con la Crimea, figuriamoci se sarebbero fatte con una operazione di quel genere. Però, ripeto, attenzione perché non siano un boomerang, ecco, perché non si arrivi poi a dover piangere sul latte versato, insomma. No, no, lo so che non puoi dirmela tu l'alternativa, però così a livello di commento, quale potrebbe essere in questo momento, sperando che comunque possiamo essere in qualche modo, non dico a una fine totale, ma quantomeno all'inizio della fine del conflitto, no? Con queste trattative nuove. Ma io lo so che è una cosa difficile da fare, però io allenterei un po' questa nostra, non so, sudditanza la chiamerei, nei confronti degli Stati Uniti. Vorrei far capire agli Stati Uniti e alla Russia che l'Europa è la zona del mondo più ricca e non può diventare, diciamo, secondaria. È vero che noi come europei abbiamo altri, tra virgolette, difetti, non è che siano difetti, ma per esempio abbiamo una popolazione anziana, eccetera, quindi è chiaro che il maggiore sviluppo negli ultimi anni l'hanno avuto in Cina, l'hanno avuto in India, perché chiaramente partivano da situazioni differenti, ma al momento l'Europa resta la zona del mondo più ricca e quindi io sarei per far capire agli Stati Uniti che non siamo lo zimbello, non è che gli Stati Uniti danno un ordine e noi automaticamente dobbiamo eseguire. Certamente gli accordi con gli Stati Uniti sono stati fondamentali nel dopoguerra, ci mancherebbe altro, però insomma sono passati 70 anni, io penso che l'Europa debba dare un segnale di maturità, ecco, in questo senso. Ok, va bene, sì, l'Europa dovrebbe dare segnale di maturità sotto tanti punti di vista, ma questo lo diciamo né io da sola né tu da solo, ma insomma per questo le riflessioni verranno fatte dopo, però sicuramente dobbiamo imparare un po' a sfruttare in senso buono le nostre risorse senza essere in balia degli altri, peraltro in modo più o meno totale, perché non è che parliamo solo di un canale. Grazie Giancarlo Marcotti, allora ricordiamo come sempre i tuoi video quotidiani su Finanza in Chiaro, ti seguiamo sempre anche lì, tratti insomma anche per gli amici che ci seguono sulle fonti, tratti questi temi ovviamente potendoli magari approfondire meglio perché ogni giorno comunque porti un focus e poi noi ci sentiamo settimana prossima sempre sulle fonti tv. Assolutamente, dato che l'hai accennato al mio canale, stasera ci sarà proprio un video sul futuro del dollaro che a mio parere sarà estremamente interessante. Mi ha incuriosita, quindi guarderò pure io e magari poi lo riprenderemo anche la settimana prossima, perché no? Vediamo poi cosa succederà ovviamente in questi sette giorni, però il futuro del dollaro indubbiamente è interessante. Seguite Finanza in Chiaro Giancarlo Marcotti. Grazie Giancarlo, ciao. Grazie a te Emanuela, un saluto a tutti gli ascoltatori.